ci siamo ben ritrovati a tutti nuova diretta delle edizioni ares come avete letto nel titolo e come vedete dalla copertina del libro di cui abbiamo mostriamo lo zoom parliamo questa sera presentiamo il libro di don marcello stanzione che è collegato con noi e insieme a fausto bizzarri ci parlerà di questo nuovo libro l'angelo accanto a te quindi faremo un po un'escursione per così dire nel mistero nel soprannaturale effettivamente anche il periodo natalizio dispone a questo tipo di chiamiamole incursioni in attesa che si colleghino tutti gli amici che poi ci raggiungono vediamo di riepilogare rapidamente le novità di casa ares dell'ultima settimana intanto segnalo il nuovo numero di studi cattolici e che si apre con uno speciale quaderno di natale dove troverete tantissimi approfondimenti sul tema tra cui un'anticipazione del libro di michele dolz il dio bambino che è un viaggio nella devozione nell'iconografia anche del bambino gesù che ha ispirato santi e artisti di ogni tempo un altro approfondimento invece di andrea mardegan sullo splendore liturgico del tempo di preparazione al natale troverete anche la grazia della semplicità di ricordata da michelangelo pelaez e non può mancare il presepe ovviamente avvicinandosi al natale contempliamo la natività sempre in questo quaderno di natale di studi cattolici con l'aiuto delle pagine di enrique monasterio che ha scritto e dio fece il presepe sempre in tema ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa durante una di queste dirette il miracolo inaspettato tra le trincee della prima guerra mondiale la cosiddetta tregua di natale oggetto del libro di un bellissimo libro di antonio besana e ancora la poesia sempre in tema natalizio con giuseppe conte che racconta il più bel regalo di natale della sua infanzia e daniele mencarelli che presenta una preghiera all'uomo e a dio e last but not least come si suol dire l'editoriale di cesare cavalleri dedicato all'anno di san giuseppe dirette facebook non abbiamo finito non siamo ancora in ferie oltre a quella di questa sera vi anticipo già quella di domani sera 22 dicembre sempre alla stessa ora alle 19 presenteremo il libro dedicato a don dolindo ruotolo la biografia scritta da luciano regolo con la nipote di don dolindo grazie a ruotolo con l'intervento anche di don luigi maria ipicoco e monsignor giacomo pappalardo della congregazione per le cause dei santi sui nostri social continua anche qui oltre agli aggiornamenti continua anche la preparazione al natale con delle perle diciamo poetiche che ogni giorno ci regala cesare cavalleri leggendo accompagnando i lettori con i versi di grandi autori la novena poetica appunto per quanto riguarda la rassegna stampa l'eco dei libri ares segnaliamo destini nuovo libro di bruno nacci in questi giorni se ne sono occupati libero il piccolo affari italiani solo libri e c'è un'ampia intervista all'autore a bruno nacci sull'intellettuale dissidente come pure continua a riscuotere successo interesse il primo noir per così dire delle edizioni ares cioè l'ena e il moro di nicoletta sipos che abbiamo presentato all'inizio di novembre e ne hanno parlato il giorno diva e donna e c'è anche un'intervista con espansione tv daria bignardi su elle ha confidato che il suo libro per le vacanze di natale sarà il profilo di raymond carver di antonio spadaro e l'almanaco del consiglio nazionale delle ricerche ha consigliato la tregua di natale di antonio besana infine l'osservatore romano anticipato l'intervista con antonia aslan presente sul nuovo fascicolo di studi cattolici e si può leggere anche online direttamente sul sito dell'osservatore romano veniamo quindi al tema di questa sera abbiamo anticipato la rifacciamo vedere la copertina l'angelo accanto a te è il nuovo libro di don marcello stanzione che è collegato con noi dalla sua parrocchia di campagna in provincia di salerno infatti stavamo prima della diretta stavamo ironizzando sulla curiosa assonanza con il famoso libro di george bernanò per cui don don marcello si può definire a pieno titolo il curato di campagna ma ha detto che spera di finire meglio però di quel del protagonista di bernanò io dico di essere un curato di campagna al quadrato perché sto nel comune di campagna dopo eppoli così si chiama di comune campagna ma sto proprio in aperta campagna quindi quindi in tutti i sensi proprio io valgo due volte il curato di campagna e poi c'è fausto bizzarri che dialogherà con l'autore fausto bizzarri è un coach e però allo stesso tempo ha un interesse per gli angeli e anche un paio di pubblicazioni all'attivo sul tema poi più avanti ci chiederà anche cosa c'entra un coach con gli angeli insomma abbiamo combinato questa interessante conversazione stasera un prete e un coach che ci parleranno di questi esseri che riscuotono tantissimo interesse oggi proprio in preparazione a questa diretta stavo curiosando stavo googlando per vedere quanti libri ci sono sul tema degli angeli e uscivano fuori sui migliaia e migliaia di titoli cui probabilmente anche don marcello che ne ha scritti qualche centinaio ha contribuito però al di là della butad è proprio una realtà di fatto l'interesse in tante forme che poi toccano anche come vedremo la sfera della new age a volte quindi cercheremo un po anche di di offrire un po di chiarezza di capirci qualcosa in più su questo interesse crescente a volte un po aggrovigliato nei confronti degli angeli che va dalla devozione alle alle decorazioni natalizie ad altre forme di religiosità insomma partiamo proprio da qui diamo subito la parola all'autore proprio su questo chiamiamolo risveglio ammesso che sia un risveglio questo appunto questa appunto diffusione della dell'interesse scusate la ripetizione sugli angeli ma questo significa che allora la dimensione del sacro non è qualcosa di archiviato non è qualcosa da lasciare a tempi remoti allora hai detto bene che ho fatto centinaia di libri sugli angeli però il motivo è un po triste perché io 30 anni fa mi resi conto andando alla libreria Feltrinelli alla libreria Mondatori allora c'era anche la Gulliver che il 95-97 per cento di quei testi sugli angeli erano di matrice esoterica, cabalistica, new edge, occultistica e di cattolico c'era quasi niente sugli angeli allora in questi 30 anni ho scritto tanti libri qualcuno dice che in qualche modo ho spezzato il monopolio esoterico sugli angeli in modo che i cattolici hanno anche grazie a me qualche testo diciamo di valore perché non perché l'ho scritto io ma perché il testo è di valore perché ci rifacciamo alla vita dei santi, alla sacra scrittura, a quello che dice il magistero ecco hai detto bene ci sono decine di migliaia di libri però come autori cattolici sono molto pochi a parte il sottoscritto c'è Don Renzo Lavatori c'è un piccolo gruppetto di padri Micheliti la congregazione polacca che sono i rettori del santuario di San Michele Arcangelo c'è qualche padre dei canonici regolari della Santa Croce ecco c'è anche Fausto tra i cattolici che scrivono sugli angeli però siamo un gruppetto piccolissimo siamo una pattuglia di 5-6 persone al massimo a livello mondiale sto parlando, non a livello italiano e abbiamo dall'altra parte un esercito enorme di decine di migliaia di scrittori esoterici allora si era creato un vuoto grosso nel cattolicesimo riguardo agli angeli tieni presente che nel 1600-1700 c'erano centinaia e centinaia di libri sugli angeli composti dai francescani, dai gesuiti, dai dominicani oggi questa presenza dei religiosi è totalmente scomparsa nell'editoria sugli angeli hai detto bene anche un'altra cosa per apprezzare l'angelo bisogna avere un senso della sacralità allora anche nella chiesa cattolica ovviamente ci sono tantissimi che credono in Dio ma tantissimi che non sono devoti agli angeli è vero che gli angeli non sono un argomento fondamentale della fede è un argomento secondario, è un argomento relativo Dio poteva fare tutto quello che ha fatto senza gli angeli però se Dio li ha creati sono intermediari tra la divinità e gli esseri umani ed è interessante che tantissimi santi erano devoti agli angeli non solamente hanno fatto noveni in onore degli angeli hanno scritto libri ma molti di loro addirittura hanno avuto anche un contatto diretto con il loro angelo custode appunto lì ci sono diversi profili in questo libro l'angelo accanto a te dell'editrice Ares ecco 50-60 anni dove si era creato un vuoto tieni presente ad esempio io ho fatto delle ricerche su Chiara Lubic una donna certamente santa che probabilmente sarà anche beatificata e canonizzata non ho trovato niente di scritto sugli angeli da parte di Chiara Lubic ho fatto anche delle ricerche su Don Luigi Giussani un grande eroe del cattolicesimo dei nostri tempi non c'è niente di Don Giussani sugli angeli anche grandi scrittori cattolici che per esempio il priore di Pose ha fatto centinaia di libri non ha scritto un rigo sugli angeli pure lui un monaco se parli con diversi monaci ti ridono in faccia se tu parli degli angeli perché hanno dimenticato che San Benedetto dice che i monaci soprattutto quando vanno nel coro a salmudiare imitano gli angeli quindi noi abbiamo perso molto la spiritualità degli angeli questo spiega anche la difficoltà a vivere il celibato la castità consacrata ecco Sant'Ambrogio di Milano metteva in rilevanza questo fatto qua le vergini cristiane assomigliano agli angeli se noi togliamo gli angeli cronano tante cose della fede e della spiritualità cattolica crolla anche un certo senso gerattico perché gli angeli sono divisi in nove cori angelici quindi c'è una gerattia allora non è qui parliamo dell'angioletto del devozionismo qui c'è tutta una teologia che poi diventa una prassi particolare la chiesa cattolica è una chiesa militante perché? è perché il nostro padrone è San Michele Arcangelo è vero che anche San Giuseppe sono i due padroni della chiesa San Michele e San Giuseppe però è interessante questo fatto San Giuseppe è più un padrono come dire difensivo lui combatte la guerra scappando San Michele invece è un padrono guerriero affronta il combattimento allora certi atteggiamenti di un certo tipo di chiesa si comprendono anche perché non essendoci una devozione chiara forte all'angelo si è persa anche una certa forma di combattimento spirituale di denuncia del male, del peccato e dei vizi quindi è detto molto bene se si perde il senso della sacralità si perde molto il senso dell'angelo le chiese del 1500, 1600, 1700 con queste pale dell'altare che raffiguravano gli angeli aprivano lo spazio della chiesa al paradiso, all'eternità, all'infinito tante chiese moderne sembrano dei garage sembrano dei supermarket manca questa dimensione della trascendenza che ti dava certamente anche la raffigurazione pittorica o scultoria degli angeli infatti poi più avanti torneremo anche sugli aspetti artistici che come dicevamo dimostrano una grande presenza degli angeli nel corso dei secoli anche nella storia dell'arte vorrei passare un attimo la parola a Bizzarri che come abbiamo anticipato di professione fa il coach e volevo chiedere appunto perché un coach si interessa di angeli magari spieghiamo un attimino cosa fa il coach proprio brevemente per chi non lo sapesse ma allora cominciamo da lì allora il coach diciamo non è un consulente ma è una persona che si affianca alla persona al coach che tecnicamente si chiama così cercando di aiutarlo a focalizzare bene le sue energie le sue potenzialità per farlo arrivare meglio e più rapidamente ai suoi obiettivi perciò la domanda Stefano quasi la rigiro nel senso che ho visto che i miei percorsi i miei studi teologici vengono prima del fatto di diventare coach mi sono reso conto così a mio avviso che da laico da persona quale io sono non sono sacerdote come Don Marcello dopo aver fatto gli studi teologici mi sono reso conto che probabilmente una delle caratteristiche professionali che più mi si avvicina al ruolo dell'angelo è proprio quello del coach che non è quello del consulente oppure quello di dire fate voi io vi do la soluzione ma è quello di affiancare attraverso domande attraverso tecniche attraverso appunto aspetti prettamente del coach aiutare l'uomo a trovare se stesso e a indirizzarsi con maggiore rapidità verso l'autorializzazione che in questo contesto oserei quasi citare il padre nostro nella volontà del padre cioè con più la persona si realizza con più c'entra la volontà del padre ed ecco che l'angelo diventa fondamentale in quanto l'angelo ci è stato messo vicino apposta per centrare per arrivare rapidamente con maggiore efficacia alla volontà del padre se l'angelo ci aiuta in questo è chiaro che il coach che non è assolutamente un angelo ma è una persona come me che è un essere umano tenta attraverso appunto la sua attività di cercare di aiutare l'uomo ad arrivare più rapidamente alla propria autorializzazione come esercizio mio personale qualche anno fa che poi scaturì poi da questo mio primo libro però questo studio non l'ho pubblicato ho riletto il libro di Tobia in un dialogo di coaching perciò nella mia elaborazione personale per arrivare poi a diventare coach prima di tutto ho cercato di capire come davvero poter aiutare le persone e perciò ho fatto questa analisi riportando appunto il libro di Tobia in un contesto di coaching e questo mi ha aiutato ancora di più secondo me ad affrontare approfondire meglio determinati temi ovviamente io sono un coach laico perciò il mio coach il mio modo di fare coaching è un coaching assolutamente diciamo così che non prende in campo la spiritualità ma io personalmente la interpreto così perciò è una mia chiave di lettura personale non obbligato assolutamente ad altri a seguirmi in questo perché quello che faccio è perfettamente laico come è giusto che sia da questo punto di vista è chiaro che se io riesco a fare delle domande potenti tecnicamente il coach fa domande potenti con più potenti sono le domande con più la persona ci mette in discussione e con maggiore efficacia troverà il raggiungimento del proprio obiettivo torniamo all'autore per cominciare a entrare nel vivo e capire che cosa sono i protagonisti del libro cioè gli angeli appunto o forse meglio dire chi sono cioè tante volte vengono confusi con energie impersonali oppure sono degli esseri personali dotati di un io per così dire sì noi dobbiamo dare la risposta basandoci sui testi della sacra scrittura e sui testi del magistero allora prendiamo il catechismo della chiesa cattolica del 1992 prendiamo il compendio del catechismo della chiesa cattolica dove si dice chiaramente che l'esistenza degli angeli innanzitutto è una verità di fede la loro presenza è evidentissima e poi si dice chiaramente in questi testi il compendio e il catechismo che gli angeli sono degli esseri personali cioè sono dotati di intelligenza volontà e libertà allora chi è l'angelo? innanzitutto l'angelo è una creatura come noi come noi esseri umani quindi è stato creato da Dio quindi è inferiore a Dio ma è superiore agli uomini come intelligenza come bontà come bellezza poi l'angelo è un ruolo perché l'angelo è uno spirito è uno spirito incorporeo Sant'Agostino dice chiaramente che la natura è spirito infatti sono chiamati anche spiriti nella Bibbia ma come dire il mestiere l'occupazione l'attività è angelo cioè è ambasciatore l'angelo fa tante cose l'angelo innanzitutto loda benedice ringrazia prega a Dio poi alcuni angeli tra cui appunto gli angeli custodi hanno questo ruolo di portare agli uomini le comunicazioni della divinità già nell'antico testamento c'è il famoso sogno di Giacobbe la scala famosa dove gli angeli salivano e scendevano che significa gli angeli salivano per portare le preghiere le richieste di noi esseri umani a Dio e scendevano per portare le risposte di Dio i messaggi di Dio dice Sant'Omaso da Quino che tutte le grazie che noi riceviamo da Dio le riceviamo attraverso il ministero l'intercessione degli angeli quindi gli angeli sono creature e sono collaboratori sono servi di Dio quindi non fanno concorrenza a Dio questo nella dottrina cattolica invece nell'esoterismo che tu prima indirettamente hai citato gli angeli spesso sono staccati da Dio infatti l'angerologia new age occultista è molto politeista allora gli angeli sono delle energie come dire impersonali ed è interessante questo fatto che c'è la persona che sta a fare il channeling che è una forma modella di spiritismo che si mette in contatto con l'angelo e ottiene dall'angelo dei favori particolari quindi come dire sono angeli che servono a realizzare degli obiettivi spesso molto materiali invece nella visione cattolica c'è la dimensione materiale però c'è soprattutto quella soprannaturale spirituale l'angelo ti vuole portare a giocare con lui io dico a tennis in paradiso quindi l'angelo fa tutto il possibile per farti crescere e maturare spiritualmente e per salvarti l'anima ecco questa dimensione non è presente nell'angelologia new age perché l'angelologia new age è un'angelologia come dire debole non c'è un punto di riferimento morale forte come per esempio i dieci comandamenti la chiesa non è il punto di riferimento di questa angelologia anzi in genere quelli della new age sono tutte persone contrarie alla chiesa per loro la chiesa è un'istituzione superata sorpassata medievale corrotta eccetera eccetera quindi come dire nella spiritualità new age un po' come purtroppo la moderna visione sessuale non esiste più il peccato sessuale ognuno vuol dire si serve a livello sessuale di quello che vuole fare lui tutto va bene allora è chiaro che la nostra angelologia cattolica cristiana biblica è profondamente diversa da quella del new age tieni presente che tantissimi libri sono stati scritti da un occultista cabalista spagnolo che è morto pochi anni fa e lì si parla appunto di aziel questo occultista spagnolo ha fatto tantissimi libri che ho trovato anche tra le mani di diversi catechisti cattolici i quali in buona fede hanno presentato questi angeli della cabalà ai bambini e ai ragazzi del catechismo proprio perché non c'è una grossa alfabetizzazione cattolica anche nelle parolze sugli angeli questo aziel parla dei 72 geni planetari o principi dice che ci sono nove cori angelici per ogni coro angelico ci sono appunto otto angeli guidati da un accangelo e quindi arriviamo a 72 ogni cinque gradi dello zodieco cioè ogni cinque giorni c'è un angelo particolare che protegge le persone che sono nati in quei cinque giorni ma è soprattutto una protezione di natura economica materiale di spiritualità c'è poco o niente però questi libri sono assai diffusi con tutte le preghiere quindi c'è l'angelo del giorno l'angelo della settimana l'angelo del mese quindi il diavolo ha lavorato molto bene ha creato una grande confusione sugli angeli poi io che da tanti anni faccio questo discorso sugli angeli mi rendo conto che in tantissimi ambienti cattolici c'è un senso di superiorità cioè ti guardano come il prete appunto ingenuotto il prete un po' infantile il prete un po' bambino che parla degli angeli cioè è un modo di pensare del 1700 del 1600 adesso c'è la modernità meno male che quasi ogni pagina della Bibbia parla degli angeli quindi voglio dire il male si è saputo organizzare bene da una parte ha creato confusione dall'altra parte nei riguardi di quelli che diffondono l'angelologia cristiana cattolica ha creato un clima come dire quasi di derisione sei compianto sei uno che crede ancora all'angeli insomma dimentichiamo invece che gli angeli sono protagonisti importanti della storia della salvezza e sono al servizio di Gesù sono al servizio della Madonna sono al servizio della Trinità Papa Francesco recentemente ha detto che è lo Spirito Santo che manda le ispirazioni però Papa Francesco ha sottolineato lo Spirito Santo si serve del Ministero degli Angeli per portarci le ispirazioni è venuta fuori nel frattempo una parola la parola chiave angelologia quindi è una vera e propria disciplina che viene studiata per esempio cioè quando lei è andato in seminario ha studiato angelologia no ne è angelologia ne è demonologia eccetera eccetera allora che io sappia allora si fa qualche cosa di angelologia all'istituto dei Salesiani a Messina poi per diversi anni alla facoltà dell'Opus Dei a Roma c'era un sacerdote spagnolo che faceva un corso sugli angeli no però non mi risulta che ci siano dei corsi strutturati di angelologia e demonologia e questa è una grossa carenza una volta si studiavano di più gli angeli e i diavoli nel corso di dogmatica però ripeto questi sono considerati argomenti io dico della scuola si fa una scollatina si parla degli angeli però tutto sommato sembrano argomenti medioevali di una mentalità arcaica superata una mentalità mitologica ecco uno che è un po' incantato appunto ripeto quando in realtà gli angeli hanno un ruolo importante l'abbiamo visto nella vita dei santi i santi e gli angeli sono strettamente intrecciati perché lavorano per il regno di Dio infatti poi poi ci arriveremo nel suo libro la seconda parte è praticamente una carrellata di 35 profili di santi eccetera che hanno avuto poi questo contatto diretto con gli angeli e 35 è solo una piccola selezione immagino di quelli che si potevano centinaia e centinaia di profili di mistici e di mistiche diciamo che la mia beatitudine quando leggo i libri dei santi ho letto migliaia e migliaia di libri dei santi di andare a vedere il rapporto che avevano con l'angelo quindi ho scritto tantissimo nel libro dell'Ares ci sono 35 profili ma ho fatto tantissimi decine di centinaia di profili infatti poi tra poco ne vedremo qualcuno più da vicino passo a Bizzarri e passo anche dall'angelologia all'angelosofia o angelosofia sì qual è la differenza? allora l'angelologia è come ha detto Don Marcello prima diciamo è la abbiamo la scienza tradizionale di studio degli angeli non soltanto di matrice cristiano-cattolica ma prende in considerazione gli angeli su diverse religioni ed è stata diciamo abbastanza abbandonata come ha detto giustamente Don Marcello negli anni non viene quasi più insegnata e se io vado tutto sommato su internet googlando come hai detto prima Stefano a cercare angelologia probabilmente di cattolico viene fuori molto poco cattolico di cristiano diciamo che lo stimolo nasce da questo angelo-sofia prende proprio il nome dell'angelo e sofia vuol dire sapienza queste due parole greche unite insieme vuol dire la sapienza dell'angelo la sapienza profonda dell'angelo ed è una nuova disciplina che io e Don Marcello abbiamo creato anche un po' credo sia fondamentale lo stimolo di Papa Francesco quando nell'omelia del 2 ottobre del 2018 ha detto che l'angelo è la porta la trascendenza quotidiana ecco l'angelo la porta trascendenza quotidiana è molto bello e secondo me il nostro compito è quello di cercare di attualizzarlo di metterlo effettivamente di renderlo pratico perciò l'angelo-sofia è un'unione diciamo così della tradizionale angelologia che ovviamente abbiamo studiato e di cui in qualche modo diciamo portatori unito a tutte le scienze umane che possono prendere parte a questo tipo di concetto perché l'angelo-sofia ha questo compito in modo particolare di unire l'uomo all'angelo perciò di non studiare semplicemente magari i cori angelici o quello che ci è stato anche prementato dai padri del deserto dai padri della chiesa eccetera eccetera ma di unirlo alle recenti scienze umane a partire dalla storia dall'antropologia alla psicologia alle neuroscienze ecco perciò come l'uomo può effettivamente interfacciarsi e relazionarsi e cercare di mettere in campo una conciapevolezza ingenta l'angelo-sofia è questo e sono coinvolte se non sbaglio anche più discipline anche la psicologia mi sembra sì ma allora vedi Stefano il concetto è questo allora ci sono parecchi psicologi e grandi anche fondatori di tante branche della psicologia penso alla psicologia transpersonale penso alla psicosintesi sono tutti grandi intuizioni di psicologi che Abraham Maslow a Sagioli che vedevano appunto l'uomo come un vertice di trascendenza che tende alla trascendenza ma non è che parlassero espressamente di angeli ma riconoscevano in un modo molto forte questo aspetto profondo dell'uomo legato ad una transpersonalità ad una trascendenza e io penso che da cattolici da cristiani diciamo la meglio così che hanno un po' di mistichezza con il mondo angelico ecco cercare di leggere questa chiave della trascendenza unendola alle parole di Papa Francesco e a tutta la nostra immesso il nostro immesso patrimonio culturale viene tramandato da secoli o direi da millenni perché soltanto nell'ultimo periodo non parliamo di angeli ma lo abbiamo sempre fatto e anche con grande novizia di particolari ecco credo che unire queste forze sia quanto mai attivo moderno e perciò da un po' biblicamente parlando la possibilità di unire la parte nuova e la parte vecchia per fare una ciappienza unica torno un attimo allo spunto che avevamo accennato all'inizio che è un grosso spunto di riflessione che ci offre l'arte sacra Don Marcello stesso se ne è interessato effettivamente se noi guardiamo a tutta l'arte sacra nel corso dei duemila anni dietro le madonne in trono i santi eccetera la presenza degli angeli è preponderante ci offrono anche quindi un cioè costituisce una fonte anche questo per capire come sono stati come si è svolta nel corso dei secoli la riflessione sui angeli sì innanzitutto voglio dirti questo una volta alla RAI ho fatto un programma che era presente anche il famoso Vittorio Sgarbi io dissi che se toglievamo dalla Bibbia ogni riferimento agli angeli bisognava strappare quasi tutta la Bibbia e Sgarbi aggiunse ma se togliamo i dipinti le sculture degli angeli dobbiamo chiudere quasi tutte le sale dei musei e delle pinacoteche quindi il tema angelologico è importantissimo nell'arte nella letteratura nella poesia ecco quest'anno è il centenario della morte di Dante Alighieri ma Dante parla tantissimo degli angeli soprattutto nel Purgatorio e nel Paradiso allora all'inizio i primi pittori cristiani è chiaro si sono rifatti quasi esclusivamente alla Bibbia quindi sono raffigurazioni di scene bibliche a un certo punto dal IV secolo in poi hanno raffigurato gli angeli con le ali in qualche modo si sono ispirati alle famose immagini greche della Vittoria no? della Nike e in genere gli angeli sono sempre raffigurati ragazzi giovani e con le ali è chiaro che gli angeli non hanno le ali perché non avendo un corpo non hanno bisogno delle ali però le ali stanno ad indicare la loro agilità la loro prontezza nell'osservare i comandamenti di Dio e agire velocemente per realizzare la volontà di Dio interessante che c'è un grande scandalo quando Michelangelo dipinse i suoi famosi angeli nella Cappella Sistina nel giudizio no? senza le ali si gridò all'eresia perché si era abituato a raffigurare sempre gli angeli con le ali anzi ti dirò quando sono andato a Fatima tanti anni fa la prima volta cercavo la statuetta dell'angelo del Portogallo tu lo sai che ai tre pastorelli prima dell'apparizione della Madonna c'è stata l'apparizione dell'angelo del Portogallo a certo punto io sulle Bangarelle ero confuso perché abituato a vedere sempre le statuine degli angeli con le ali lì invece è raffigurato l'angelo del Portogallo senza le ali quindi io non riuscivo a distinguerlo e poi ti ripeto gli angeli sono raffigurati sempre come fanciulli come giovani per dire che gli angeli sono immortali non si ammalano non si invecchiano quindi non fanno come me i capelli bianchi oppure li perdono ma gli angeli in Dio sono eternamente giovani sono belli perché sono un riflesso della bellezza di Dio ha detto un grande teologo San Giovanni Crisostomo che se Dio è il sole gli angeli sono i raggi più belli di questo sole è importante per esempio ammirare gli angeli del Beato Angelico infatti volevo andare proprio lì perché è un artista che si è portato dietro il nome di Angelico e che oltre a dipingere gli angeli ha proprio incarnato la dimensione angelica nella sua opera e nella sua vita sì è stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II un po' il protettore dei pittori cristiani era un frate dominicano nato a Fiesole Giovanni da Fiesole e possiamo ammirare soprattutto a Firenze no? nel convendo di San Marco le sue meravigliose opere che come dire io dico che guardando gli angeli del Beato Angelico c'è un'attività terapeutica positiva perché ti senti rilassato sono angeli pieni di bei colori sono angeli che in mano hanno gli strumenti musicali sono angeli che hanno tanti tipi di fiori diversi sono angeli che ballano che danzano cioè ti mettono buon umore e in effetti lui ha accolto nel segno perché vedi gli angeli essendo amici di Dio non sono depressi non soffrono di angoscia quindi gli angeli sono gli esseri più felici del mondo e Beato Angelico ha accolto questa felicità dell'angelo quando lo raffigura Beato Angelico è poi una delle figure uno dei 35 profili presenti nella seconda parte del libro se possiamo accernare a qualcuno a qualcuna di queste figure magari quelle che più colpiscono quello che più colpisce è certamente Gemma Galgani Santa Gemma che è morta a 25 anni era molto devota degli angeli tanto è vero che in tutte le sue lettere c'è un riferimento agli angeli nel suo epistolario io sono rimasto colpito da alcuni fatti per esempio lei viveva in povertà ed era ospite della famiglia Giannini onde non gravare le spese di questa famiglia che lo ospitava gratis non per avarizia ma lei voleva risparmiare il franco bollo allora lei si iscriveva con il suo padre spirituale padre Germano e allora lei attraverso l'angelo mandava le lettere a padre Germano voglio narrarti due fatti il primo fatto fu questo allora lei preparò la lettera per padre Germano l'ha detta a Cecilia Giannini siccome a quell'epoca un sacerdote padre Lorenzo era ospite presso la famiglia Giannini Cecilia portò questa lettera di Gemma Galgani a padre Lorenzo padre Lorenzo prese la lettera la mise in una cassetta diciamo di sicurezza la chiuse e mise la chiave nel taschino Gemma gli disse che aveva visto in visione l'angelo che portava la lettera a padre Germano Cecilia e padre Lorenzo subito andarono aprirono la cassetta e non trovarono la lettera allora chiesero una seconda come dire prova di nuovo Gemma preparò una lettera per padre Germano senza mettere il franco bollo per risparmiare padre Lorenzo prese la lettera la mise in mezzo a due santini San Paolo della Croce e San Gabriele della Dolorata probabilmente padre Lorenzo aveva paura anche del diavolo disse forse questa è una diavoleria quindi mise la lettera in mezzo a due santini Benedetti e la nascose in mezzo alle sue carte in un posto che solamente lui conosceva il giorno dopo di nuovo Gemma disse che aveva visto l'angelo con la lettera in mano Cecilia e padre Lorenzo andarono a controllare la lettera non c'era ed era arrivata appunto senza il franco bollo da padre Germano quindi questi fatti sono veramente stupi faceva il postino in pratica tant'è vero ricordati che San Gabriele è il padrono dei postini in Italia ecco e anche dei filatellici quelli che raccolgo di Franco Burri un'altra figura scrivato Belaguer per esempio tu sai meglio di me visto che la casa editrice Ares ha contatti con l'Opus Dei che l'Opus Dei è stato fondato il 2 ottobre del 1928 certamente è stata un'ispirazione degli angeli lo dice anche Spievate Belaguer e poi Spievate Belaguer parla addirittura dell'arcangelo che protegge i sacerdoti che parla dell'arcangelo ministeriale poi chi legge Cammino Forchia Solco vede decine e decine di riferimenti agli angeli molto graziosi molto profondi stile di escrivare non è uno stile pesante è uno stile da freccia molto incisivo si può dire che scriveva aforismi che colpiscono e ti fanno riflettere non c'è pesantezza stilistica in questi aforismi per esempio lui racconta che una volta ha ricevuto un vescovo importante e lui disse sai che ho salutato per primo e lui disse hai salutato me disse l'arcivescovo disse no ho salutato la persona più importante l'arcivescovo era lì da lui con il suo segretario gli disse ma tra il segretario e me che sono un arcivescovo il più importante so io insomma modesti a parte e scriveva gli disse no no io ho salutato prima l'angelo poi l'ho salutato te lui aveva l'abitudine che quasi nessuno percepiva che quando entrava in una stanza a un certo punto si fermava per far entrare il suo angelo custode anche perché lui lo chiama arcangelo ministeriale molto devoto di Michele Gabriele e Raffaele tanto è vero mi sembra che diverse associazioni interne dell'Opus Dei sono consacrate a San Michele a San Raffaele a San Gabriele e poi in un periodo di grande povertà e scrivato che la guerra aveva l'orologio guasto non aveva i soldi per andare dall'orologiaio e lui pregava la mattina nonostante che l'orologio fosse guasto che l'angelo lo facesse svegliare in tempo e ogni mattina si svegliava e lui dice che era l'angelo che lo svegliava tanto è vero che lo chiamava il mio piccolo orologioio ma poi ci sono centinaia di questi fatti nella vita di Escrivato e Pellagher e poi c'è Don Dolindo Ruotolo di cui che sarà l'argomento della diretta di domani sera altra figura di quest'anno straordinaria fuori dai canoni diciamo si sono esattamente 50 anni che è morto è morto il 16 novembre 19 novembre del 1970 io anch'io ho fatto una monografia su Don Dorindo Ruotolo e gli angeli lui ha scritto tantissimo 33 e più volumi appunto di commento alla Sacra Scrittura lui dice che era ispirato da un angelo i suoi studiosi dicono che probabilmente i suoi biografi che l'angelo era San Raffaele perché aveva una particolare devozione a San Raffaele e anche nella sua vita ci sono tantissimi riferimenti agli angeli lui racconta che quando era seminarista di 14 anni era stato incaricato di controllare la luce del Santissimo Sacramento allora c'erano le lampade ad olio che si potevano spegnere dal momento all'altro lui dice di giorno non ho problemi ma di notte come fare a svegliarmi quando si spegneva la lampada del Santissimo Sacramento lui aveva chiesto al suo angelo di svegliarlo e esattamente un minuto prima che si spegnesse la fiamma lui dice che una voce gentile gli diceva Dolindo Dolindo con molta gentilezza perché lui stava dormendo quindi lo svegliava dolcemente la lampada lui si alzava arrivava vicino alla lampada la lampada si spegneva e lui da bravo seminarista incaricato da Sacrestano accendeva la lampada ma ci sono tanti fatti nella vita di Don Dolindo io ero anche molto devoto a San Michele a Cancio torniamo dal sacerdote torniamo al coach perché è chiaro quando si leggono queste figure straordinarie questi fatti altrettanto straordinari viene da pensare però succede a quelli lì mentre una persona normale che ha una vita quotidiana che fa un lavoro tra impegni professionali manageriali eccetera insomma sembra quasi che siano episodi che poi non abbiano nulla da dire alla nostra quotidianità e invece? l'angelo ovviamente si manifesta sempre e continuamente è chiaro che gli esempi che ha citato Don Marcello sono esempi sono esempi straordinari di una grande confidenza di una grande demozione come un laico chiamiamolo così normale immerso nella vita innanzitutto attraverso una consapevolezza che ad esempio con l'angilosofia cerchiamo di introdurre è chiaro che se io non penso mai alla figura dell'angelo se non ce l'ho mai in mente se quando vado in chiesa nessuno me lo nomina se quando vado a confessarmi nessuno me ne parla se quando mi accosto alla comunione manco ci penso è chiaro che la consapevolezza dello spirito celeste al mio fianco è quasi nulla non che lui non ci sia ma sono io che manco di consapevolezza occorre che la persona riacquisti questa consapevolezza perché effettivamente le persone che hai citato prima i santi che hai citato prima Don Marcello avevano una grande consapevolezza dell'angelo sapevano perfettamente che esisteva e dunque lo trattavano come tale se io non tratto la figura spirituale come tale la disattendo così come se io non riconosco che l'uomo non ha una trascendenza e non ha una spiritualità perciò prima di tutto bisogna agire sulla persona cercare di far recuperare alla persona un concetto di spiritualità che l'uomo ha insito e quando l'uomo recupera questo concetto di spiritualità è più facile molto più attivo anche nell'acquisire una consapevolezza e una spiritualità verso l'angelo e facendo facendo così è chiaro che ogni atto ogni movimento anche ogni ogni pensiero in qualche modo può essere ispirato dall'angelo può essere veicolato dall'angelo proprio perché sono io stesso che apro questa porta liberamente alla presenza del grande poi di fatto la domanda che fanno molti è se è un aiuto che si limita solo ai massimi sistemi o se gli si può chiedere aiuto per trovare parcheggio ma io penso esagero ma non troppo no io penso che l'esempio che ha portato Don Marcello è straordinario cioè se Sant'Agema Caicani si afferiva all'angelo semplicemente per un francobollo per una lettera io penso che l'angelo ci possa veramente costruire in tutto da trovare un parcheggio mettiamola così molto ma soprattutto secondo me a cercare di ritrovare un forte un forte legame antropologico e angelico con l'uomo un cinandemia come diceva Sergei Vulcato un rapporto di grande corresponsione spirituale tra l'uomo e l'angelo perciò ci si può trovare in tutto veramente anche nel caffè quotidiano pensando di di sorseggiarlo insieme al nostro spirito celeste nel frattempo vediamo c'è una domanda che sta arrivando ricordo che potete continuare a scrivere domande proprio qui sotto il video sulla pagina facebook dell'edizione Ares ma leggo che Maria Grazia dice io cerco gli angeli e per ora li ho trovati nell'iconografia come Gabriele l'angelo dai capelli d'oro poi magari anche altri vengono raffigurati con i capelli d'oro però ecco vi lancio questo input per parlare della figura di Gabriele poi non so chi dei due preferisce allora mi inserisco io volevo aggiungere una cosa cominciamo dall'autore tu prima parlavi del parcheggio ma la gente soprattutto le donne caro Stefano vogliono qualcosa in più il desiderio di buona parte delle donne trovare l'anima gemella il fidanzato il marito il compagno di vita allora c'è questo bel pensiero di sante schivate bella che dice così ridi perché ti dico che tu hai vocazione matrimoniale ebbene ebbene l'hai proprio così vocazione raccomandati a San Raffaele che ti guidi come guidò Tobia casto sino alla fine del cammino io proprio ascoltando Giuseppe Maria scrivato e bella che era tanti ragazzi ho detto tu desideri trovare fidanzato e fai una bella novena a San Raffaele e molti mi dicono sì sì la cosa ha funzionato ho trovato veramente una persona come Dio voleva ok sì sì nel libro di Tobia viene raccontato che lui lo accompagna verso il matrimonio l'angelo Raffaele sì a livello iconografico lo sai che San Gabriele in genere viene raffigurato quasi sempre nell'annunciazione no viene raffigurato inginocchiato tante volte per dire che quella donna è la regina degli angeli quindi anche se lui è un grande arcangelo sta incinocchiato e poi c'è questo giglio che raffigura la purezza interessante il fatto che siamo nell'anno di San Giuseppe come tu bene hai detto all'inizio anche parlando dell'editoriale di Cesare Cavalleri su studi cattolici di questo mese ecco non si dice esattamente chi è l'angelo però certamente è San Gabriele che appare in sogno a San Giuseppe perché presso gli ebrei San Gabriele era l'angelo dei sogni Dio si serviva di Gabriele per portare dei sogni ispirati quindi voglio dire da una parte Gabriele ha lavorato nell'annunciazione sia nell'annunciazione per la nascita di Giovanni Battista no lui va nel tempio al sacerdote Zaccaria sia per la nascita di Gesù quindi Gabriele è sempre collegato alle nascite importanti e poi anche l'angelo dei sogni infatti nell'antico testamento Daniele è diventato importante presso il re perché lui appunto interpretava Daniele grazie all'intervento di Gabriele i sogni quindi voglio dire gli angeli normalmente possono parlarci attraverso i sogni io spesso la sera quando vado a dormire a parte la preghiera all'angelo custode faccio sempre una preghiera a San Gabriele che mi porti dei sogni ispirati e tante volte io vedo che la mattina mi vengono delle idee geniali che non nascono dalla mia intericenza dalla mia sensibilità mi vengono appunto dall'angelo dei sogni facendo un po' il paragone anche nell'iconografia oltre che nella devozione viene in mente poi è inevitabile la figura di San Michele che tra l'altro è definito il principe delle milizie celesti viene in mente anche per il fatto che spesso appunto vediamo gli angeli solo in una modalità un po' infantile diciamo c'è il rischio di ridurli solo a questo mentre San Michele ci mostra un po' il volto anche combattivo se vogliamo sì Michele chi è come Dio allora Michele è un angelo che ama talmente il Signore che scende in combattimento contro i nemici di Dio è molto importante l'iconografia di San Michele San Michele è sempre raffigurato come un soldato romano un legionario no? con un centurione e poi è molto importante quella spada oppure quella lancia in realtà se la capovolciamo non è una spada una lancia è una croce astile che San Michele è l'angelo della croce in hoc segno vinces cioè con la croce vincerai e poi è raffigurato con i calzari romani con le catene con cui tiene sotto controllo il diavolo e raffigurato sempre tante volte anche con una corona in testa perché lui è un principe voglio dirti una bella cosa che qualche mese fa ho scoperto padre Dio quando è stata ristrutturata la chiesa di San Giovanni Rotondo lui era pivente tutto sommato non si interessava troppo del restauro della ristrutturazione della chiesa però quando hanno fatto l'altare dedicato a San Michele li è intervenuto con il mosaicista e ha detto al mosaicista ha detto senti mi raccomando la spada mettila a pene tra le mani di San Michele non fare che San Michele c'ha la spada in aria perché San Michele non giocarella con la spada padre Dio ha detto allo scultore al mosaicista metti la spada nella bocca del diavolo perché da quella bocca che escono le calunnie le pestennie le falsità tutti quelli che sono figli di Dio che sono cristiani sanno come la calunnia è pericolosa come bisogna soffrire di tante cattiveri che ti mettono addosso e quindi padre Dio gli disse quella spada mettila a pene nella bocca del diavolo e poi gli disse i piedi di San Michele mettili bene sulle spade del diavolo perché lui blocca il demonio quindi è importante anche una giusta raffigurazione qualcuno una volta mi ha fatto un po' attirare perché ha detto ma come noi siamo per la pace e San Michele gli diamo la spada e non è capito niente gli disse è proprio ignorante perché nella Bibbia la spada è la parola di Dio la spada a doppio taglio che penetra fin nelle profondità delle mitolla cioè va proprio fino al vizio al peccato e al male quindi bisogna raffigurare San Michele con la spada gli dice dobbiamo essere persone pacifiche togliamo la spada a San Michele sta facendo il gioco del diavolo dell'avversario prima di concludere volevo dirti questo sia io che il carissimo Fausto Bizzarri quando sarà passata la pandemia siamo disposti se qualche ascoltatore è interessato ad andare non solo nelle parrocchie nei centri universitari nelle biblioteche nelle librerie a presentare con Fausto questo testo dell'Ares l'angelo accanto a te perché è importante che questo testo sia fatto conoscere proprio per alimentare la fede e la spiritualità di noi cattolici infatti penso e spero che molti siano interessati quando ritroveremo la libertà di movimento insomma intanto lascio un attimo ancora la parola Fausto per sempre sul tema dell'iconografia che abbiamo appena citato sì certo ecco molto spesso soprattutto anche in questo periodo gli angeli vengono spesso dipinti o rappresentati come dei puttini o dei bambini dei fanciulli che sono anche carini sono graziosi qual è il problema di questa rappresentazione che si pensino a volte che siano veramente così che siano queste creature così minute così quasi direi fanciullesche oppure peggio ancora l'altro l'altro aspetto caratteriale è legato al tema del bambino guardare quando noi abbiamo bambini che pregano magari l'angioletto una volta si insegnano un pochino di più adesso sempre meno magari la preghiera dell'angelo di Dio magari hanno di fianco a loro questo piccolo quadrettino che rappresenta l'angioletto è chiaro che il bambino con il bambino tra virgolette raffigurato si interfaccia con molto piacere perché sente in qualche modo una similitudine ma quando pure il bambino cresce non si rappresenta più non si sente più rappresentato difeso da quell'immagine da questo bambino perché poi tendenzialmente l'uomo o la donna quando crescono quando diventano grandi si rappresentano o si interfacciano con persone tendenzialmente della loro età allora è bello vedere queste cose perché ci fa piacere il problema è che l'angelo è molto altro da quello che viene raffigurato in queste cose può rappresentare un aspetto dell'angelo la tenerezza la dolcezza può rappresentare questo aspetto ma non è l'angelo rappresentato in senso compiuto e completo una iconografia di questo tipo ecco che occorre aiutare anche da questo punto di vista le persone a leggere un pochino meglio la chiave di questi aspetti così come l'angelo con le ali rappresenta il fatto che è una realtà spirituale che ci può spostare senza problemi così la parte diciamo così più infantile dell'angelo può rappresentare questa dolcezza questa caratteristica ma non è non si conclui soltanto lì sono aspetti che rappresentano una realtà che è molto più ampia e molto più complessa bene siamo ormai il tempo è tiranno siamo alla chiusura vi lancio proprio un ultimo input di riepilogo partendo da Don Marcello l'angelo in 30 secondi che possiamo dire mi dispiace se concludo con la preghiera all'angelo di Dio perché poi alla fine il mio obiettivo è di far pregare gli angeli allora magari gli amici ascoltatori insieme a me fanno questa preghiera perché poi in 30 secondi il concetto fondamentale è proprio in questa preghiera angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi governami che ti fu affidato dalla pietà celeste amén è tutto qui proprio sintesi totale Fausto beh allora io vado di Tobia vado del capitolo 3 del libro di Tobia in quel medesimo momento la preghiera di tutti e due fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire i due a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi perché con gli occhi vedesse la luce di Dio a dare Sara figlia di Ragueli sposa a Tobia figlio di Tobi a liberarla dal cattivo demonio a smoteo ecco questo vi ho citato volentieri la parola di Dio che a fianco alla preghiera più tradizionale dell'angelo Bustodio rappresenta questo doppio ponte la preghiera la devozione dall'altra e la parola di Dio che ci uniscono per dare consapevolezza alla persona dell'importanza dell'angelo grazie e grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito questa sera mostriamo in conclusione anche la copertina del libro di Don Marcello Stanzione l'angelo accanto a te qui sotto proprio nei commenti trovate anche il link per accedere direttamente alla pagina dedicata al libro del sito dell'edizione Ares che ricordo il libro si può prenotare anche in formato ebook quindi scaricarlo all'istante a velocità angelica per dire lo ritroverete in un attimo sul vostro tablet o dispositivo domani sera come abbiamo già anticipato accennato durante questa diretta avremo un'altra interessantissima conversazione dedicata a Don Dolindo Ruotolo altra figura straordinaria di cui ci ha parlato anche Don Marcello tra l'altro in questa conversazione sarà protagonista il libro scritto da Luciano Regolo che sarà presente a presentare questo libro insieme a Don Luigi Maria Epicoco e a Monsignor Giacomo Pappalardo e avremo anche una testimonianza della nipote di Don Dolindo Ruotolo grazie a Ruotolo appuntamento a domani sera grazie ancora a tutti e buona serata alla prossima grazie